Sì, e se no aspetta... VAI! NO! Salve a tutti ragazzi, siamo vissuti da Fatimbross Io sono Adalbis Oh scusate Cosa fai sei morto? Io sono Loc, no proprio Hai iniziato con la bestemmia Loc Me l'ho fatto apposta Vabbè mi hanno colpito Così Per inaugurare la serata Neanche 5 secondi Cioè Non aveva neanche detto il suo nome Eh no l'ho detto dopo Sì no no neanche il suo nome tipo Eh di... Scusate che ce l'ho carichi oggi Non so perché E lo tocca a me comunque Almost game over Abbiamo solo prima vita Porca putt... Ma come sono i tasti? Ma come sono i tasti? Ma come sono i tasti? Vabbè dai adesso... Acceleri con X E noi iniziamo di brutto così a giocare Eeeh si Eeeh No dai 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 Aspetta un secondo Dai cominciamo da capo Un secondo Volevo ricominciare da capo il video Lo ammettiamo Però noi... No! Noi facciamo vedere tutto Abbiamo iniziato con due morti così Gratis E ci saranno... Altre miglia Non è facile questo livello Comunque Ma perchè non vedi Nell'ultimo episodio siamo rimasti impiantati un bel po' qua Quindi adesso... Guarda un secondo Che slitta... Guarda lì slitta E si la differenza... E qua è come Super Mario Vedi qua è... Dai aspetta... Dai toccata ad Albi Ma perchè non salta un cazzo? Oh che padre Poi non salta un cazzo E cambialo Che saltano uguali Non sapevo il tasto No non salta uguale un cazzo Vedi che è più agile Aspetta ma scivola bene comunque il gioco Dai FK un attimo Dai lo... Adesso è rapido Un attimo di riprendere la... Manorabilità E la cosa? La manorabilità Ma non è così ovvio sto livello? Perchè non si è abituato a scivolare Eh no perchè di solito Donkey non scivola E' giusto ma non gira Ok Boh sei a posto è finito il livello E che fatto son lunghissimi Cioè non è che dici Dai dai ce la fai Ma mozzo Non l'ha neanche guardato Non neanche ti hai provato E poi ti risalvo e sei creato tutto lo stesso Adesso mi impegno Non è facile No pericolo fate cagare i videogiochi è vero Ma si fa il cambio E l'altro tasto E' qua son mille tassi che provali no? E' paura Che puoi usare Guardate Donkey Kong ragazzi E' il gioco che guardate di meno diciamolo E' vero Quindi non ce lo caga nessuno Pensando a fare che cazzo vogliamo Ma è che bestemmiare Locke No vabbè dai adesso lo finiamo Per una volta Guardate o non guardate Piuttosto ce lo guardiamo noi a casa e basta Tre visualizzazioni E avevo spato in bocca all'ape Comunque Calma E noi lo finiremo sto gioco Ormai lo promette ad Albi E allora le fa quanto valgo del nostro Eccolo Eccolo Ma va troppo veloce sto marile Sto marile di merda Allora Mi viene da pianta Dai per favore Non lo scherziamo Non siamo neanche arrivati al checkpoint Allora Non abbiamo fatto neanche un pezzo Ma l'altra volta siamo di più avanti credo Meglio così perché Meglio così cosa vuol dire Meglio così Ecco bravo Aspetta aspetta Oh io gioco so più Aspetta aspetta Oh non c'ho più manovrabilità io Manovrabilità Noi ci crediamo di giocare a muzza ai giochi Ridendo Non ci giochiamo Non ci dobbiamo più giochi Ragazzi quittiamo Non vogliamo più videogiochi Facciamo un canale dove poi parliamo E già li facciamo fatica Cambia Perché 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 Kong Fa schifo Si che salta di merda Ma ti faccio vedere che salta di merda Tua mamma No La I barili non sono così proprio Ovvi No no È strano C'è un altro video ovvio Che dici proprio brainless Devi aspettare il momento giusto Vabbè vedi Adesso questo va di là È giusto Eh però aspetta Prima c'erano i pezzi più difficili che i barili Questo è easy Ma va più veloce adesso In teoria dovrebbe essere la parte Ogni volta Adesso Vado Dio Scusate Scusate Urla adesso finchè puoi Adesso la faccio Adesso lo farei Meno male ragazzo Adesso lo farei dai Ma basta che lo diceva Vabbè che mi ha fatto divertire Eh questo è allo show quello come sempre Dai stai facendo una puntata su questo livello eh Non è che È la seconda puntata su questo livello No vabbè l'altra non conta Ah no Ah boh Meno male Ma come è i suit fighter Quella non conta Ma l'altra è perchè non siamo stati così tanto Eh non mi ricordo Eh a me Non l'ho visto Eh Non ho visto neanche io il video Di Don King Kong Scusate Non mi ricordo Scusate Non mi ricordo Scusate Non mi ricordo Non mi ricordo Che tu mi hai detto che non è ancora uscito Non devi dirlo Perchè 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 Dai dai basta basta Sono arrivato più avanti però eh Ma vaffanculo Perfavore Mettiamo delle piccole tappe Ray dice che non è facile un cazzo se non Sì Hai capito Questo gioco comunque non è ovvio No vabbè ma questo gioco è più facile vedi E' più facile di Super Mario No vabbè Però i livelli sono più lunghi quindi non ti puoi concentrare C'hai capito E se mi dai le comitate Il solide comitate di Adalbis E no veramente Cioè direi Adalbis Ok Dai questo è automatico o c'ho c'ho? È il pelo quella Quello è il pelo perchè lo mi sto già girando Io voglio prendere eh No Non voglio prendere niente fidati Ti dico cosa vuoi prendere Adalbis Olè Che culo Ma tu io lo sapevi Tu fidami Ma che balle che la gente non si fida Oppa E allora Sai cos'era? Quella era un number E' per calibrare quella E' per calibrare E' un number E' un number Guarda qua Non è che aspettare mezz'ora come l'ora Dai sei dato il punto di vai Al fine è una competizione fra di noi che va più lontano del live Dai che culo che culo Che culo Che culo non ci posso credere Ok E qua è un casino Adesso E poi Vabbè Io non me lo ricordavo così E adesso adesso Ma io non me lo ricordavo così Ma io non me lo ricordavo così No perchè si era su Era giù su L'ape e la madonna Il tuo catelo Dai però Io non me lo ricordavo così sto gioco Aspetta aspetta Ma fino ad adesso siamo andati fluidi Vabbè Più o meno eh Vabbè come l'olio proprio Abbiamo finito tutti i livelli abbastanza Poi si cambia PG Eh vedi Poi già vabbè C'è il B B C'è sempre i due tasti voi Guarda guarda Ah ok 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 Ah 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 Ok No oggi non c'ho lo scrotto in go Bravo 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 L'hoc Magari riesco a fare la scimmia meglio Sia da convinti non lo so No non è meglio Ma noi stiamo giocando con volume altissimo Non è più un problema Grazie al microfono Oh cazzo Inamba ti ha Dalvis Qua copiamo inamba Qua non funzionava Adesso ho già detto che lo faccio Ray si concentra e lo fa Una vita Almeno fino al checkpoint Ma no è perché così arriviamo al checkpoint Non serve a niente Vabbè ce lo danno Due banane devi prendere Via due banane Via due banane senza morire Vabbè se muori adesso va bene E pensate che ogni volta che moriamo Ci rifacciamo tutto sto pezzo Fuori dal gioco Fuori dal video Sprezziamo il boss Sprezziamo bocche palle veramente Pensa Solo per voi Ho già 50 minuti che registriamo Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Mi sto sudando Mi sto sudando Mi sto sudando Il bello è quando c'è quello che gira Anche Ti va tutto Vediamo Aspetta aspetta Dai adesso Bravo Noo Dai Vabbè va bene Uno è una safe Noo Non è mica male Va bene Eh Bisogna farlo più in alto forse Vabbè adesso Dai Bravo Ecco Adesso è da sotto Eh sì Vedi E' da sopra E' da sopra Ma se è più veloce stai Ma puttana troia Che voglia Prova da sopra Vabbè piano piano ci arrivo Ma non è Ma non è E' lungo Aspetta vado Aspetta vado Aspetta vado Sembra lungo perchè Dunque a rifare sempre mille volte lo stesso pezzo Anche il mondo di Dark Souls non è enorme E poi c'è un paio di continuo dentro E' sempre grosso Vabbè è uguale E' lungo E' lungo E' lungo E' lungo E' lungo Non è una vita Non è una vita Non è una vita Tira tutte volte che lo facciamo Silence will fall Adesso Guarda Guarda Ma il bambino come ho fatto a finire questo gioco? Non so NO Sbagliati su Ho ovvio Ho proprio ovvio Ho proprio ovvio Era lì la G Come fai prenderla Ma ora c'è un segreto E tra l'altro questo è il primo Si Del quarto mondo Non è che dici gli altri Ma dopo sarà più facile Ma forse questo era già il checkpoint E non vorrei dire cazzato Si si Era già il checkpoint Ma che cazzo stai dicendo? Si perchè esplode L'altra volta è ben giocato Ma come è che non lo sappiamo che è già il checkpoint Ogni volta che lo rifacciamo non ce ne accorgiamo E no no E' schifo Il nostro cervello che non può computare E no è vero è vero è quello Adesso impegna il Locke che tra un po' mi sta in nervosia E con me guarda un po' Lei si definisce con Locke perchè è un pezzo di merda Come al solito Sbaglia Muore Questo per fare un po' di numbers Minchia Si ma con la prima ape mai più Eh vabbè Ammuzzo proprio Proprio Non datelo in mano a Locke Non datelo in mano a Locke Non datelo in mano a Locke L'ultima volta era datelo in mano a Locke Non datelo in mano a Locke Sono da solo perchè malamano ha fatto un cazzo Si ma il colo sta girato così probabilmente Mettetelo in mezzo Ehi Aia Che non mi si alza Che non mi si alza DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII D'AilviiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ma è colpa mia Andiamo a bere qualcosa se non è vuole Ma facciamolo ragazzi Mi lo stai tirando Cambiamo gioco Io mi dico solo che prima c'era la dusta del sole Poi Non è vero Dai Boom Ad Alvis se lo fa Siamo al checkpoint È vero il checkpoint quello Si si Quindi abbiamo solo un pezzo livello da fare Nienche Lungo eh non vogliamo fare neanche mezzo livello parla per te adesso io lo faccio bravo e ora non me ne fotte un cazzo di niente ma io lo so ma lo sa perché adesso lo sa io non l'ho fatto a posto diciamocelo è un po' fiducine ad albis e io mi fido di lui fida fida ti va poi difficile che vai bene ehi e se no aspetta vai vai sai cosa ho detto vai però poi scherzato dopo lo stimolo tu vai lo stimolo hai fatto partire vai e per il braccio al muscolo vi ricordate alla scoperta del colpo umano che c'era il ricettore che correva il ricettore dal cervello arrivava fino a minchia non arrivano noi il ricettore non fanno parte l'infuso sono tranciati e muore tipo qua riprova riprova non è così possibile ragazzi ma stiamo scherzando ma allora lo facciamo da bambini ma porca troia voglio dire però da bambini avevi più manualità no ma ci stavi morire 70 volte non ce ne potevo un cazzo e no e poi giocavi solo questo solo questo tipo da mattino alla sera quindi alla fine non ce l'avevi più manualità che adesso adesso non facciamo solo questo madonna un segreto che non sa ma 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 adesso abbiamo capito no dai non ci credo ma adesso abbiamo capito ma sei un coglione ma questo era tipo ma sei proprio un coglione ma dov'era dov'era cazzo ed è appunto era quello che sbagliavi tu no adesso ho capito ho capito e sei come non ho capito devi spararti come si sparava dal vice si lo so ma schivare il barile ma è bello lo sapevo io e scrivi proprio tutto il livello ma guarda che sei proprio un coglione aspetta aspetta però guarda che ce ne hai per non girare avanti dopo che hai saltato l'ultimo eh porca troia sembri me su super mario è uguale la scena uguale fine livello non dovete copiarmi le cazzate voglio dire è a qui qua vai avanti no si 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 bo 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 ti dà anche le vite anche più si è poi un bonus sgravo tra l'altro ti dà anche le vite facile schiaccia avanti adesso bravo ah non è finito aspetta se me sono solo sono solo siamo noi dai ci teniamo a per mano exit si si una puntata c'è una puntata ci vuole a tre tre secondi a fk un attimo tre oh puttana gg comunque ma che gg è un cazzo è di brutto è di luck che l'ha trovato luck che l'ha trovato luck che l'ha trovato ma è nell'errore che nell'errore vabbè ma dopo tre ore qua come si arrivava con Didi che è stata più l'altro ops ah no con i nemici ma sei un coglione ah è vero che i nemici ma li popparo li popparo risettali voglio andare bello il cristallo si si ma qua forse è più facile su livello già vedo meno bavili nell'orizzonte vabbè vai è vero quindi tranne quello che abbiamo appena fatto quello quello interessava il coglione quattro vite ragazzi quattro vite grazie alle puttanate no no lo ammazzi quello no lo ammazzi lo ammazzi è stato in testa ma bene pazienza aspetta ma che va su da solo ah non ricordo sta cosa che ci vuole in alto ci vuole in alto voglio dire la gravità non conta ma si se ne può oh oh ce l'ho fatto ah quelli rossi ci vuole in basso oh ah ma che era un segreto e non lo sapevo ma stai tranquillo che già che non mi ammuzzo ammuzzo e partendo allora lo scopo è sopravvivere in questo non eri fermo era che che sto stronzo di merda va su va su va su va su ma devi girare perché sono le apine di merda diglielo oh è vero ma questo gioco non c'è un livello uguale all'altro ma strano non lo dici mai questa puntata non l'ho ancora detto è vero le dici tutte le puntate e lo so che in questa non l'hai ancora detto questa non l'ho ancora detta infatti fatti lasciare no e quando ho fatto le banane quindi cosa e ho pensato o che saltamelo e buttalo giù bravo sto figlio di puntata questo va giù giù oddio è giù bravo Adalbes si vabbè ma ti giuro che non c'è più un cazzo un attimo perché un attimo sopra no perché subito vai su giù e devi riflettere un attimo io sto andando avanti a Muzzo invece devi riflettere fagli arrivare fagli arrivare tu che sei si si fagli arrivare guarda tu che sei un coglione vai dai venite va agli resetti cosa magari sai che bello dio l'ho salto di nuovo livello vai vai indosso quello ma va non so magari non lo sapevi ma poi alla fine era un buon sammuzzo vabbè fai come bello dopo la banana vediamo il tempismo perché il Wii io non ci gioco al Wii ecco adesso corri sotto corri corri non ti non ti schiazzatrici no ma niente schiazzatrici diciamo come si fa videogiochi non vi preoccupate torniamo fra un seconda fra un seconda